L'isolamento della Calabria da storico è divenuto cronico. Le vie di comunicazione, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie sono un sogno mai concretamente realizzato. Le nuove tecnologie di comunicazione viaggiano su una rete inadeguata. Contribuisci a fermare il declino, dai il tuo apporto per formare un consiglio regionale composto da persone impegnate nel sociale, nel lavoro, nella cultura, nell'associazionismo. Rinnova il consiglio regionale con donne e uomini che sappiano amministrare e creare sviluppo. Uomini e donne che vogliono una Calabria viva, partecipata al centro del Mediterraneo ed in sintonia con l'Europa. Ferma il regresso, vota l'avvocato Giuseppe Serrano, candidato di Forza Italia per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria nella circoscrizione elettorale sud con Vandaferro presidente. Vivere, studiare, formarsi, lavorare e fare impresa in Calabria è possibile. Io ci credo, credici anche tu. Il 23 novembre vota l'avvocato Giuseppe Serrano. Chi sogna i milioni? Chi gioca da zardo?